Collega Pizzolante, continui quel suo intervento. Provo a concludere, vedo che c'è una sensibilità democratica particolare secondo la quale quando sono loro ad insultare va bene e invece una normale espressione dialettica merita questa aggressione e questi insulti da parte... Evitiamo di usare espressioni dialettiche che siano lesive. Eviti. Votiamo a favore nonostante questi insulti. La ringrazio. Allora colleghi, colleghi della Lega per favore, chi è il deputato sopra? Deputato Tancredi, per favore, per favore, per favore, collaboriamo tutti. Allora, come si chiama il deputato questo qui? Deputato Simonetti, deputato Simonetti. Allora, c'è il deputato Crippa che alza il regolamento.